Oltre 130 opere mai o raramente esposte al pubblico, tutte provenienti da collezioni private, compongono l'ampio repertorio di Andy Sbeck, la mostra ontologica dedicata al rivoluzionario artista Andy Warhol, al PAN fino al 31 luglio. La mostra ripercorre la storia artistica e personale del maestro della pop art, da quando arrivò a New York nel 49 a quando divenne l'amata, ammirata, discusse e criticata celebrità, il curatore Edoardo Falcioni. La mostra a Napoli, abbiamo voluto ricostruire Warhol l'uomo, Warhol l'artista a 360 gradi, in base ai diversissimi settori nei quali l'artista si è cimentato e nei quali ha stravolto l'intera storia dell'arte. Partendo da questa sala che contiene le icone storiche, i volti dello Star System, in primis Marilyn Monroe, it's Taylor, il visitatore proseguirà, avrà modo di vedere le altre icone che hanno reso celebre l'artista, le Campbell Soup, e il modo in cui Warhol utilizzava diversi supporti artistici, per esempio ci sono due esemplari di vestiti nei quali l'artista serigrafò l'Abrillo Box e i Flowers. La sala immediatamente successiva è un omaggio alla città di Napoli, all'Italia, a cui questa mostra è dedicata, non poteva mancare il Vesuvio, le icone, i ritratti dei suoi amici con i quali egli frequentò Napoli, quindi Joseph Beuys con il quale instaurò un'amicizia solida, proprio qua nella città di Napoli, full gallerista Lucio Amelio a presentarli. Poi ci sarà una sala invece in cui ci sarà un focus sul mattino, quindi la cover che egli serigrafò, fate presto, e sarà indagata questo rapporto, questa sua vicinanza a Napoli appunto. L'esposizione allestita al panne esibisce l'intero universo di Warhol, l'artista oggi più quotato al mondo, l'arte, la grafica, le frequentazioni mondane dello Star System e quelle dei bassi fondi, la musica, l'editoria, la moda, la fotografia, il cinema, rappresentati da serigrafie, litografie, disegni, fotografie, acetati, rivisti e vinili, oggetto di culto, autografati ed edizioni speciali, ritratti e autoritratti. Il produttore esecutivo della mostra, Salvatore Lacagnina. È una mostra importante, è una mostra che fa un giro in Italia, è stata a Genova e ora si trova qua al panne fino al 31 di luglio, quindi è un'importante offerta culturale, quindi cerchiamo di ripartire di nuovo con l'attività culturale in una normalità di vita.